Nuovo podcast, nuovo webinar dedicato al brucia grassi, sistema brucia grassi, come bruciare meglio i grassi, come dare turbo nostro metabolismo, specialmente quelli che sono addormentati nel bosco, quanto di voi dice no mio metabolismo è lento, mio metabolismo non funziona, non riesco a ritrovare la linea. Innanzitutto volevo farvi ascoltare o leggere un po' di commenti delle persone che mi hanno seguito i miei consigli negli anni perché danno una speranza perché ci sono tante persone che hanno smesso di sperare, hanno smesso di pensare che fosse possibile riattivare questo bel metabolismo ma non è così. Allora Gil grazie a te mille davvero, senza il tuo aiuto sarei stata un'altra persona, grazie, grazie. Giovanna dice io ho iniziato qualche anno fa, non ero costante ma con te ho ripreso il ritmo giornaliero e il prova costume, sono bastata da quello intero modellante ai bikini al triangolo e si continua. E poi Emanuele ci dice i tuoi cinque minuti mi hanno aiutato a riprendere e a muovermi, a fare azzardo perché anche l'attività fisica sia sei e sarai una grande sprono per me, grazie, grazie, grazie. Allora questi quelli che stanno dicendo i nostri amici è innanzitutto il movimento. Quando parliamo di metabolismo vorrei dare un disclaimer, il disclaimer vuol dire partiamo dai basi. I basi saranno e sempre saranno movimento che ci aiuta a consumare più calorie e un riguardo alle quantità di calorie che ingeriamo, anche se parleremo nei questi webinar, nei questi podcast, anche di digiuno in intermettenza e dove c'è un digiuno c'è anche a mangiare perché se è digiuno il corpo deve mangiare, è il carburante del corpo, è impossibile non mangiare, però in un altro podcast parleremo proprio di digiuno e come gestirlo al meglio. Ma oggi voglio parlare di il perché dobbiamo riattivare il metabolismo, perché possiamo usare il fidget, possiamo usare il freddo, possiamo utilizzare il sonno, possiamo usare ovviamente il movimento, digiuno e l'intermettenza, anche l'idratazione è importante e anche posizionare la caffeina prima del nostro allenamento può essere molto efficace per aumentare i consumi dei grassi durante l'allenamento. Ma tutto questo serve perché? Serve perché invecchiando il nostro metabolismo si rallenta. Per gli uomini vedete che, allora che cos'è una basal metabolic rate? Ok, la razza metabolica basale viene misurata da fermi in un luogo temperato dove non stai producendo calore assolutamente e dove sai semplicemente se è acceso, se è acceso. E che cos'è acceso? L'organo interno, cervello, reni, fegato, milza, pancreas, polmoni, sistema circolatore o cuore ovviamente. Allora, questa è l'accensione e la cosa interessante di questo basal metabolic rate è che consuma il 70% di tutte le tue calorie al giorno. Più o meno il fegato brucia su 350-400 calorie, il cervello 300 calorie e cominciamo ad avere questo basal metabolic rate che in numeroni può essere, quando sei giovane, 1000-1200 calorie al giorno. Dopo quello andiamo ad aggiungere il movimento, si chiama il movimento. Allora il movimento è l'attività quotidiana, mi alzo, mi preparo la prima collezione, mi devo lavare, mi devo andare fino all'ufficio camminando e quello è un altro calcolo, così partiamo da 1000 per renderlo facile, aggiungo 200-300 calorie di movimento. Poi se mi alleno, questa è un'altra cosa, poi c'è anche l'effetto termogenico. Se sono in un ambiente più fresco, più freddo, devo produrre più calore e questo effetto termogenico che può essere con esercizio o senza esercizio, bruciare altre calorie, ma alla fine dici io brucio 2000 calorie al giorno. Ergo io per tecnicamente perdere peso dovrei ingerire meno di 2000 calorie o altrimenti voglio mantenere, mangio più o meno 2000 calorie e invece se andrò a ingrassare andrò proprio a mangiare di più. Ok, perfetto. Allora noi andiamo a perdere il peso, il potere del nostro metabolismo anno dopo anno più o meno alla velocità di 1% all'anno e cominciamo a vedere il quadro così, cioè andiamo a vedere proprio il numerone. Se io ho 20 anni per rimanere acceso, cioè proprio per rimanere così fermo di fronte a voi, dove non sto facendo niente, non sto digerendo perché sono a digiuno, produco il caldo perché sono a sangue caldo, così termogenesi è in atto, ma al momento sono dentro casa dove non fa né troppo caldo né troppo freddo, così non sto sudando e non sto in brivido, ok, senza brivido, ok, e in più non sono in movimento. Questa mia è stata più o meno della rata metabolica basale, sono accesa. A 20 anni questo potrebbe essere 1200 calorie al giorno, ma a lungo andare arrivo a 70 anni con, togliendo 1% all'anno perché dopo 25 anni noi cominciamo ad invecchiare, su tanti fronti noi cominciamo a invecchiare nella produzione di collagene, nel metabolismo, nelle meningi, cioè cominciamo a rallentarci, non voglio dire sgretolare, ma più o meno rallentarci e perdere anche massa magra e densità ossea, ok, sarcopenia, ostipenia, abbiamo un problema delle collagene, diciamo si afflosce la pelle e potremmo andare avanti. Ma se noi andiamo a guardare questa differenza metabolica dal 20 anni a 70 anni, stiamo parlando di una discrepanza pari a 500 calorie al giorno. 500 calorie al giorno, considerando che se tu vai in palestra, ma avete visto il calcolo della bicicletta anche con i parametri importanti, diciamo, facciamo caso che ho l'orologio legato al cardiofrequensimetro, che è tarato sulla mia età, peso, altezza, sesso, perché i sessi bruciano in modo diverso, e mi calcola che ho bruciato un'ora di fatica emensa, 300-400 calorie, prendo il trampolino, un trampolino che consuma molto di più, comincio a farti di fletterbic, a 70 anni, uno non ha la stessa voglia di fare sport che avevi a 20 anni, molto probabilmente non ha le stesse muscolature che ci avevi a 20 anni, e come compensiamo queste 500 calorie? Spesso, volentieri, è che si comincia a allargare la sagoma, la sagoma comincia a diventare sempre più grossa e più difficile a gestire, gestire questi centimetri di accumulo. Io faccio vedere diverse foto, queste con integrazione, persone che hanno riattivato il loro metabolismo con integrazione, ovviamente vi invito anche oltre integrazione, anche in movimento, lo dirò sempre, ma sono anche, oggi sentiremo delle testimonianze maschile, perché ci tengo tantissimo di farvi capire che tutti hanno un metabolismo che si rallenta, che si può addormentare se siamo inattivi, sedentari e non siamo attenti né all'alimentazione, né di digiuno e né di integrazione, perché c'è un modo per riattivare questo metabolismo basale. Ovviamente le cose importanti di capire è che il metabolismo basale non è legato al movimento. Cioè quando vai a guardare il calcolo giornaliero, c'è la rata metabolica basale, l'attività quotidiana, poi lo sport, poi le questioni termogenici legate alla digestione o alla produzione di calore vero e proprio, dipendendo che stagione è, quanto, se fai l'uso di crioterapia o no. Ok? Così, questa è, noi adesso andiamo ad affrontare la cosa che non esiste un allenamento per il metabolismo, perché se io vado a fare un allenamento metabolico, lo calcolerò sul calcolo dello sport o sull'attività, ma non sulla rata metabolica basale. Così, uno dice, come posso far consumare più calorie al mio fegato? Per carità, posso anche sostenere il fegato con fitoterapici, carciofo, cardomariano, curcuma, che sono alimenti naturali che possono stimolare la liberazione o funzioni apatiche, assolutamente, ma a lunga dare non esiste un allenamento per questo organo, per aumentare i consumi e anche il cervello. Cioè, la rata metabolica basale è a sé. Sapendo che è a sé, noi abbiamo visto che ci sono stimolatori del metabolismo che aiutano a ringiovenire il metabolismo e ve lo faccio sentire. Perché? Innanzitutto, voglio farvi riflettere, perché mi piace sempre fare riflettere le persone piuttosto soltanto di dare informazione. Se quando voi guardate queste foto, onestamente nella tua testa stai formulando un peso, dice guarda, per me questa persona pesa così, o state formulando un'età? Vecchio o giovane? Anche neanche un'età? Vecchio o giovane, no? Questo sembra più vecchio di questo. Lei sembra più giovane di quest'altra persona, perché utilizzando, dimmi, questa sembra 30 anni, 18 anni. Perché quando noi andiamo a parlare di cambiamento fisiologici, è legato al metabolismo. E il metabolismo è quello che ci fa bruciare queste calorie, che ci fa bruciare i centimetri e ci fa riattivare il metabolismo, che ci permette di avere un risultato assai migliore nella circonferenza, nel drenaggio, nei consumi dei centimetri. Poi, dove vogliamo, notate che non solo che io formulo un'opinione di età, ma ditemi sempre voi, quando fate le diete classiche, ok, che è una dieta, non ti attiva il metabolismo, ti sopprime il metabolismo, come queste persone hanno perso i centimetri dove volevano, sulla schiena, rotoli sulla schiena, punto vita, fianchi, secondo fianco, le cosce, la pancia. Questi sono, diciamo, centimetri importanti da perdere e perdere in modo facile, perché ci sono modi per fare facile. E io, nei anni, ho cambiato la vita di migliaia di persone, migliaia di persone che hanno seguito i miei protocolli, letto i miei libri, usato i miei prodotti, usato i miei protocolli, perché, ripeto, sono protocolli. Non è che uso uno singolo, singolo prodotto che, se c'avessi la bacchetta magica, avrei già smesso di lavorare, ok, avrei fatto già talmente un patrimonio che avrei già un'isola, diciamo, nei Caraibi con il mio nome sopra e un elicottero. Però c'è una grandissima opportunità di aiutare le persone ad adottare una stile di vita che include movimento e da là non ci scappo. Io adesso parlo di integrazione oggi, ma gli integratori che ti parlo sono molto potenti, venduti centinaia di migliaia di pezzi che, vuol dire, sono conclamati di funzionare, però non sono sostituti in assoluto del movimento, ok? Devi pensare sempre al movimento, a nutrizione, sì, però possiamo turbocharge, no? Dà il turbo a questi risultati che magari utilizziamo a fici terapici. E voglio farvi ascoltare questo ragazzo che ha utilizzato due prodotti nel mio turbo diet, Caffè Verde, Garsini e Cambogia, e vediamo che cosa è successo. Michele. Prendo Caffè Verde, sia di Cambogia, alla grande, ho perso quasi 14 kg, quasi da 4 mesi, tranquillo proprio. Eppure ero un mancione, non ho sentito niente. Però davvero un giovane di 5 anni, davvero grazie, mi sento un giovanotto. Gil funziona, sì che funziona, grazie, grazie. Allora ragazzi, se voi siete interessati di questo turbo diet, state cercando il link e state su YouTube, ci sono due modi. Allora, innanzitutto, di qua, di qua. Di qua in alto c'è un I, un I, specialmente sui portatili. Quel I, se clicchi là sopra, dà informazione dei prodotti che si sto spiegando in questo live o altrimenti scrivete sull'altro, ok? Questo è YouTube. In alto a destra potete vedere lì o altrimenti vai sotto il video e c'è scritto altro. Scusami, mi devo girare la mano per vedere. E quando clicchi su altro vedrai i prodotti su cui sto parlando in questo webinar perché vi posso garantire di cambiare la vita. Ti cambia la vita perché Caffè Verde aiuta il tono metabolico, ci aiuta a dare tono sostegno metabolico. Uno sostegno metabolico è legato a questo invecchiamento metabolico che abbiamo visto, ok? Che succede a tutti. Tutti quanti avranno un rallentamento metabolico, chi di più, chi di meno. Però questo rallentamento metabolico, in numeroni, è dove va ad agire Caffè Verde. Caffè Verde aiuta a consumare o riaccendere i consumi genuaglieri che possono anche essere 200 calorie al giorno, 300 calorie al giorno, ma 300 chilocalorie al giorno. Ragazzi, in 10 giorni sono 3.000 calorie, in un mese sono 9.000 calorie e se guardate qua, 7.000 calorie possono essere similare a un chilo di grasso. Il nostro amico Michele ha parlato di perdere 14 chili in circa 4 mesi, 4 mesi, 4 per 4, 16, 14 chili. Più o meno lui sta perdendo un chilo a settimana, ma perdere un chilo a settimana è super, super, super salutare. Per quale motivo? La pelle. La pelle rimane tonica, la pelle rimane tesa, perché questo è un altro problema. Non solo a perdere centimetri, ma questo, perdita qua per esempio, la pelle qua è tesa, perché i fitoterapici sono anche antiossidanti per tanti motivi, specialmente il nostro caffè verde. Ma voglio farvi ascoltare adesso un'altra testimonianza, un'altra testimonianza di una ragazza che parla sempre di in quanto tempo, perché Turbo Diet è caffè verde e Garsinia Cambogia e Turbo Diet Plus include l'L Carnetina che è una forte, forte coaduante del sistema brucia grassi del corpo. Però Turbo Diet, due prodotti, caffè verde e Garsinia, quelle che ci ha detto Michele che l'ha aiutato. E poi c'è Turbo Diet Plus che includa la nostra L Carnetina. Ma andiamo a sentire Marina che parla sempre di questo fatto di tempo, in quanto tempo la Garsinia Cambogia l'ha dato il risultato. Ascoltate qua. La Garsinia Cambogia io la sto prendendo quindi dal 29 di aprile che è arrivata e i benefici sono evidenti, evidenti, molto evidenti, soprattutto adesso che sono entrata nel giro che la sto prendendo da tanto. E poi noto sempre di più che se la prendo ho questa sensazione di fame molto limitata. E quindi quella sensazione che non ho fame, approfitto di non aver fame. 6 settimane sono 6 chili, vuol dire che è un chilo alla settimana. Il colesterolo partivo da 241 e adesso sono 206. Quindi direi che stiamo sulla strada giusta. E poi mi dicono che si vede che comincia a vedersi che sono più magra, più snella. Garsinia Cambogia ha tre claims ministeriali. Uno è equilibrio del peso corporeo, equilibrio tra massa magra e massa grassa. Controllo del senso di fame. Infatti faccio sentire altre persone che parlano proprio di questo effetto della fame, delle garsinia Cambogia. Ma la terza cosa è il metabolismo dei lipidi. I lipidi sono i grassi e i grassi nel sangue sono spesso volentieri colesterolo. E noi andiamo a sentire le persone che parlano di questi lipidi che sono notevolmente migliorati. Ok? Allora vado a farvi vedere di che cosa si tratta quando parliamo di Turbo Diet Power. Perché stiamo parlando di questi due prodotti più potenti di uno, due in uno, per avere il tono sul metabolismo, sostegno per il metabolismo, quello basale, Turbo Diet Power. Due prodotti, caffè verde power, azione tonico e sostegno metabolico antiossedante per riattivare il metabolismo basale. Garsinia Cambogia, metabolismo dei lipidi e quello che sentiamo per i lipidi. Equilibrio del peso corporeo che ci aiuta a ritrovare la linea e controllo del senso di fame. Perché se io devo affrontare un rimiso in forma, io ho bisogno non solo di bruciare i grassi e attivare il metabolismo, ma quello controllo di senso di fame ti aiuta. Come ha detto Marina, siccome non sento, non percepisco la fame, mi è più facile magari di ordinare di meno, mangiare di meno, tenermi più sotto controllo. Ma andiamo a sentire a Mirella un'altra testimonianza molto importante per quanto riguarda questi lipidi, lipidi liberi nel sangue, lipidi che stanno nel corpo, perché avere anche, cioè non soltanto la questione estetica, infatti anche guardate qua, guardate come la pelle qua è migliorato, è più tonico, ok? Utilizzando caffè verde, Garsinia Cambogia e le pelle e la carnettina, vediamo come le persone stanno perdendo centimetri dove vogliono senza perdere tono sulla pelle e questo, cioè la pelle si ritira, si distringe e diventa veramente un risultato notevole sia per le donne che per gli uomini, perché anche i uomini possono avere risultati. Ma andiamo innanzitutto a parlare dei lipidi nel sangue e che cosa può succedere beneficiandoci dell'effetto della Garsinia Cambogia in questo kit turbo che dà turbo al vostro metabolismo da una parte e dall'altra parte? Un grande aiuto per i lipidi che sono nel corpo. Ascoltiamo Mirella. Sono tre anni che utilizzo i tuoi prodotti, quindi sono calata tantissimo. Io il primo mese del primo anno, in 25 giorni sono calata 5 kg. Wow! Con la Garsinia Cambogia, il ganoderma, il caffè verde. Io volevo chiedere se qualcuno di questi prodotti che io ti ho elencato fa calare il colesterolo. Secondo me, la Garsinia Cambogia è vero? Ecco, perché io da quando li utilizzo ho il colesterolo che entro ai limiti, che non ho mai avuto, perché io ho avuto il colesterolo anche 350, cioè c'era il medico che mi diceva che girava con una bomba in tasca. Il primo anno li ho utilizzati quasi sempre, poi adesso li utilizzo a fasi alterne, diciamo, a 200 perfetti, cioè entro il limite. Tu sei scesa 150 punti di colesterolo? Sì, sì, in meno. La cosa interessante è che tanti, tanti, tanti testimonianze che vi propongo qua, sono persone che mi hanno cercato, mi hanno lasciato le loro testimonianze vocali e non solo, anche video, parlano di una durata longevo dei risultati, perché dicono, parte con l'effetto d'urto, comincia con il primo anno dove sono molto intenso con l'utilizzo dell'integratore ovviamente abbinato alla dieta, al movimento, non può mai mancare, non dirò mai che un integratore può sostituire il movimento, non esiste un integratore per fare i muscoli, non esiste, cioè, integratore, esistono delle cose che non sono legali, però io sto parlando di cose fitoterapici, non medicinali, ok? E anche se, anche se una persona usa un anabolizzante che lo usano in certe cose, certi endocrinologi lo possono utilizzare magari per un ragazzo o una ragazza che non stanno crescendo, comunque il movimento è consigliato per mettere in attività quell'effetto anabolico, ok? Così, andiamo a parlare del fatto di quello che serve. Serve fitoterapici che possono sostenere il metabolismo, che possono sostenere il giusto il metabolismo e dei lipidi, che possono aiutarci a ridurre anche i lipidi liberi nel sangue che sono il colesterolo e aiutarci a tenere la forma con più facilità. Ma voglio farvi ascoltare un uomo adesso perché è molto importante, Marco, che parla sempre delle garsini a Cambogia, abbinato a una dieta e perché gli è dato risultati. Parliamo sempre di risultati mantenibili nel tempo, mantenibili, non faccio le diete e riprendo il peso, no, che riattivando il metabolismo in pratica non ha un inizio e una fine, viene sostenuto, posso interrompere per fare un washout, poi dopo due o tre mesi quando vedo che il mio metabolismo sta di nuovo rallentando, riprendo gli integratori e bim bom bam, rinoto che ricupero la mia forma fisica rapidamente per poi mai più rimetterlo. Ascoltiamo Marco e la garsini a Cambogia e che cosa è successo? Perché lui ha perso 35 kg. Io ho appunto fatto tutta la dieta con i tuoi prodotti, io ho una malattia autoimmune che quindi ho dovuto assumere cortisone e stare parecchio fermo con le gambe e pesavo 134 kg, ora ne peso 99. Utilizzando appunto la garginia sono riuscito veramente a togliere quel senso di fame perché stando a casa ovviamente viene di spizzicare, no? Anche se la nutrizionista che mi segue mi aveva dato la dieta non è mai funzionata perché io ho sempre preso peso, però sono riuscito nonostante io facendo il cortisone a mantenere gli stessi fili. Mi ha aiutato a perdere, io ho tutti i pantaloni della 56 adesso, lardi, nuovi, ancora con l'etichetta, che devo dare a mio papà perché praticamente non mi vanno più. Ti rendi conto? Noi stiamo parlando di, allora, sistema brucia grassi, ho fatto un episodio su Fidget, se volete vedere su Fidget come noi possiamo con i movimenti, annuendo, spostandoci anche sulla sedia, consumare calorie senza l'allenamento che aggiunge sempre su quel calcolo, no? Rata metabolica basale, lattività, lo sport, termogenesi e Fidget, perché Fidget ho detto un'altra cosa ancora, perché i sportivi si muovono ne più, perché i muscoli allenati vogliono essere mossi, ma non può mancare per quanto mi riguarda integratori, perché gli integratori veramente sono supereroi che poi possono aiutarti a ringiovenire il metabolismo, perché la dieta inizia, la dieta finisce e quando la dieta finisce che cosa ritorna? Ritorniamo a mangiare su un metabolismo lento che si sta rallentando, questi sono tutti risultati utilizzando Garsinia e il nostro caffè verde e per certi versi anche l'elecarnetina, però Garsinia e il caffè verde sono, diciamo, i player maggiormente utilizzati in queste foto per riattivare questo, ok? Per riattivare e riragionare con un metabolismo giovenile che consuma più energia, che consuma globalmente più energia con un affetto antiossidante che ci protegge in piccola parte dell'ossidazione delle nostre cellule che provoca poi l'invecchiamento cellulare. E voglio finire tutta questa presentazione sempre parlando di come bruciare meglio i grassi, ok? Tutti quanti vogliono bruciare i grassi quando c'è un certo periodo dell'anno che vogliamo bruciare i grassi, Natale, la Pasqua, in agosto magari mangiamo di più perché siamo in vacanza, questi sono validissimi aiutanti per aiutare il rio in giovenire, il nostro metabolismo, dandoci grandi risultati, longevi, perché io voglio chiederti una cosa, quando è l'ultima volta che hai fatto la dieta? Quando è l'ultima volta che hai fatto la dieta? E in quanto tempo sei rimasta, dopo che hai fatto una fatica immensa, dopo che tu ti sei messa a dieta, non hai più mangiato dolci e pizza e alcol e zuccheri e qualunque cosa che ti piaceva, quando hai perso i 5 chili, 6 chili, 7 chili e hai ricominciato a mangiare, entro quanto tempo hai ripreso il peso? Come ha detto la nostra amica Marco, ho sempre ripreso il peso perché non è una questione di togliere il nostro introiti, è una questione di aumentare i consumi perché poi alla fine è sempre quello, quanto brucio durante il giorno, quanto ne ingerisco durante il giorno e quel deficit in un modo o l'altro vuol dire dimagrimento o ingrassamento, mio consiglio è sempre di aumentare i consumi perché a me piace mangiare, io non voglio stare a dieta, non voglio stare astenti per perdere peso, così io attivo il metabolismo, uso fitoterapici, mi alleno tutti i giorni perché mi piace l'allenamento, mi fa sentire viva, ma guarda che succede se cominci ad entrare, ad usare questi integratori ogni tanto perché quello che stiamo per sentire è una donna che mi ha chiamato dopo due anni, ha detto io dopo due anni ho avuto questi risultati, due anni, quanti di voi potete dire che avete fatto una dieta che vi ha dato quel risultato meno 5, meno 7, meno 10 per due anni consecutivi dopo che hai ritornato alla sua vita normale? Dubito tantissimo, tanti e non possiamo stare sempre psicologicamente a dieta perché crea cortisolo, più penso a cibo, più penso alla dieta, più produco cortisolo che riduce la produzione di TSH che è l'ormone che stimola la tiroide che mi abbassa il metabolismo, sarà un altro episodio. Bene, adesso andiamo a ascoltare Florinda. Sto prendendo ancora il caffè verde e la carnitina, guarda che da quando le ho presi sono calata di 30 kg, poi non sono più aumentata di un etto, sai cosa vuol dire? Io ho perso 30 kg ma non sono più aumentata di un etto in un anno, sono quasi due anni e mezzo, io continuo il mantenimento, si continuo il mantenimento e mangio e sto bene, uguale, non ho più niente, non ho più, neanche un etto, non è aumentato neanche un etto. Quanti anni hai? 77. 77 su questo grafico sarebbe qua, questo è un grafico preso, lo potete scrivere, basal metabolic rates in males and females, lo troverete su internet, l'ho preso da internet, non l'ho creato io e questa è una figura che viene da uno studio scientifico. Vuol dire che una donna innanzitutto ha 77 anni ha preso il coraggio di provare, complimenti, numero due l'ha fatto con costanza, non pensate che con due mesi di integrazione io avrò una perdita perché noi non stiamo lavorando nel breve termine, stiamo provando a riaccendere il metabolismo per tanto tempo, ma io sto pensando a questi quanti chili ha perso? 30, 33 chili a 77 anni, io sto pensando soltanto di avere quel peso in esubero sulla sua struttura, sulle genocchia, sulla schiena, metodo di dormire, dormi peggio quando hai tanto chili addosso, puoi comunque soffrire di sleep apnea, l'apnea durante il sonno, potresti avere più infiammazioni nel corpo che aumentano problemi di artrite e dolori legati ad essi, infiammazioni che proprio velocizze il processo di invecchiamento aumentando anche i rischi di diabete di tipo 2, però insomma quello che voglio dire è una possibilità di cominciare oggi, di metterti in gioco oggi, di provare di dare turbo al vostro metabolismo e con tutti questi webinar vi darò tanti tanti consigli di come attivare e mantenere attivo quel metabolismo, mantenere attivo tutto quello che è positivo nel corpo anziché scretolare perché credo veramente che è importante vivere in una discoteca e non in una prigione e è legato ovviamente alla forma fisica perché se ho tanti chili in esubero, tanti grassi in esubero, diventa anche proprio più difficile di manovrarmi durante l'arco della giornata, viaggiare, mettere in macchina, scendere in macchina, poi c'è un fiatone, è difficile di fare le scale, è difficile fare persino le faccende di casa, così riattiviamo il nostro metabolismo, ci si può fare con i fitoterapici dedicati, se avete diciamo curiosità di provare questi prodotti cliccate sotto su altro, sotto questo video su YouTube e potete vedere il link per arrivare proprio direttamente al Turbo Diet o Turbo Diet Plus che sono tre prodotti, Turbo Diet Power sono due e l'altra cosa è che ricordate che io metto sempre il link nelle descrizioni dei miei video che siano su YouTube o su Facebook o su Instagram così potete sempre arrivare per capire al meglio, se volete scrivermi perché avete delle domande da pormi mi potete scrivere a, aspetta la devo trovare, info gilcooper.it, questo è il mio email che ti potete scrivere per domande dice Gil io ho questo, questo, questo con formazione fisiologica, ho le domande da farti e ti voglio fare delle domande o altrimenti potete sempre iscriverci su Whatsapp, io e il mio staff, mio marito Alessandro ci siamo tanti, tanti, tanti che rispondiamo alle vostre domande, opportunità o altrimenti fare una sbirciatina su gilcooper.it, il mio mondo dove c'è anche informa con Gil dove ci sono allenamenti perché ricordate l'allenamento è la base di tutto, l'allenamento è la base di tutto e per oggi vi saluto, spero che vi piacciono questi webinar, se vi piacciono per favore segui il mio canale, non dimenticate di diciamo cliccare anche sulla campanellino che così ogni volta che c'è un nuovo video potete essere tra i primi a vederlo perché sto per approdare tanta, tanta info su digiuno, info su crioterapia, info su neurogenesi, info su brucia grassi, ok, perché siamo proprio nella zona giusta, stagione giusta per brucia grassi e per il resto vi auguro una giornata veramente splendida. Grazie a tutti!